Eurogiri Falco Busolavis 3-0 alla fine per questo derby che ritorna questa volta in seconda categoria ma un derby quantomeno diciamolo subito molto corretto ha vinto la squadra che probabilmente ha avuto migliore tecnica in campo però è stata una partita che fino alla fine è stata in dubbio il giocatore dell'Eurogiri Falco Chiarella certamente voi siete stati un pochettino avvantaggiati da quel trio davanti che davvero diventava incontenibile Sì, il trio davanti è veramente devastante con Quirino e i due Conidi è un trio imprendibile è una fortuna averle con noi, era una partita sentita già dalla settimana che doveva venire ci siamo allenati anche bene quindi col mister abbiamo lavorato sia tatticamente sia per quanto riguarda la grinta sia sul piano della concentrazione oggi è andata bene, era una partita che si voleva vincere, eravamo carichi una partita del genere è sempre un derby e i derby si possono anche vincere e si possono perdere per fortuna questo derby l'abbiamo vinto noi perché penso che al momento siamo più organizzati della Bussolavis e quindi è andata così Io dicevo che voi non avete certamente rubato nulla però nel corso della partita ci sono quegli episodi che certamente fanno girare da una parte o dall'altra non parliamo del calcio di rigore possibile che ci poteva stare per la Bussolavis però diciamo che la traversa nel secondo tempo a 15 minuti dalla fine poteva rimettere in senso tutta la partita Sì, questo è vero, hanno colpito uno sul primo tempo, una traversa con un buon tiro e poi anche il secondo tempo L'episodio del rigore è stato su di me, io sono convinto che ho preso la palla quindi ho fatto un'entrata molto grintosa, però ho toccato la palla quindi per fortuna che l'arbitro ha visto bene Sei onesto e dici che hai toccato anche il giocatore dopo? No, io ho preso la palla, mi sono accorto di aver preso la palla poi quando fai la scivolata è normale che nel tackle colpisci anche l'avversario L'arbitro ha visto questo probabilmente perché sono l'assegnato A noi in tribuna è sembrato molto chiaro Allora adesso con questa vittoria è arrivato a 13 punti andate sempre alla ricerca di questo Pianopoli Sì, cerchiamo, veramente abbiamo perso a San Pietro Apostolo una partita veramente con grande rammarico perché l'avevamo pareggiata nel secondo tempo poi ci sono quegli episodi che ti fanno perdere le partite ora siamo alla ricorsa del Pianopoli, non so cosa ha fatto oggi il Pianopoli Lo sapremo stasera Lo sapremo stasera, quindi vedremo quello che ha fatto andremo alla sua rincorsa Pasquale Riga, tecnico del Bussolavisi Io ho detto che l'Eurogiri Falco ha vinto con quel trio davanti lei ha lasciato da solo quel povero Rocco Proganone da solo che non poteva fare nulla contro la difesa dell'Eurogiri Falco Bravo, ha analizzato benissimo la partita intanto voglio fare comunque i complimenti a tutti i ragazzi che sono scesi in campo perché hanno messo sia dalla parte nostra che da parte dell'Euro tutto quello che avevano, quindi è stata una partita intensa bella, corretta diciamo che noi le occasioni comunque le abbiamo create abbiamo preso due traverse qualche episodio dubbio ma io non sto a dire che l'arbitro ci ha fatto perdere la partita no, come ha detto lei loro hanno un trio e due fratelli Conidi e Quirino che hanno fatto la differenza non l'abbiamo lasciato solo Rocco abbiamo cercato di giocare con quelle che erano le nostre armi in questo momento noi siamo una matricola per questa categoria e prendo quello che c'è di buono di questa partita sicuramente abbiamo dimostrato che possiamo competere con queste squadre poi è chiaro che l'Eurogiri Falco scende dalla prima quindi ha un'esperienza molto notevole a dei giocatori, ripeto, tecnicamente non mi esimo dal dire che sono sicuramente forse superiori a quelli che abbiamo noi però io ripeto, sono rimasto positivamente colpito dalla nostra prestazione e poi diciamo che le ambizioni sono certamente diverse perché è vero che l'Eurogiri Falco tenta il rientro voi siete una matricola per la seconda e cercate quantomeno di rimanere nella categoria certo, il nostro obiettivo è quello cercare di rimanere nella categoria cercare di giocare partita per partita e io credo che se giocassimo tutte le partite con questo spirito se giocheremo tutte le partite con questo spirito credo che non è un obiettivo al di fuori della nostra portata le partite di Agnosi non si fanno con i sei con i ma lasciamo perdere l'aspetto del calcio di rigore ma se quel pallone di Marinaro fosse andato in porta che partita avremmo visto? Sicuramente avremmo visto un'altra partita anche perché anche sul 2-0 ho visto l'Euro un po' contratto nel senso che noi comunque gli abbiamo messo pressione sia in campo sia dal punto di vista psicologico forse cioè non erano molto tranquilli poi l'ultimo rigore vabbè ha chiuso la partita Riccate che alle occasioni vostre sono capitate sulla testa di De Filippo che poi è stato bravissimo oltretutto Sì sì vabbè il capitano è una nostra bandiera dà sempre l'anima in campo dà tutto capitano a lui perché forse lui è quello che se le va a cercare maggiormente forse per questo grazie